Allora, intanto potete fare un bell'intro mentre finita sia, ci siete tutti già. Dopo un anno, un anno in pratica, perché stiamo registrando l'estate, registrammo la prima in estate scorsa. Un'estate, non rubere le palle, un'estate fa... Che fa la storia di noi due Se dicevate, uno è Stando al mare Bando alle cianci e cianciando le bande, che stiamo facendo qui? Eh, ben detto Sarà banda Due Tre No, due Due Il tre è uno spoiler Sarà una sfida a colpi di videogame su questa volta Esatto Parteciperemo noi, quindi Sande Gianluca Eleonora Claudio Ok Partecipiamo Io non ne azzecco manco una Allora Volevo dire Vai Ognuna che ne azzecchi, io ti ho schiaffo Quindi ho sposto Dalle nostre parti si dice Lupiagne è mezza partita Cioè il pianto è mezza partita Vediamo se riporto Andate partiti Io sono convinto di sì E' andato di premio E' un intro del videogioco E' la dem E' la dem Z No 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 Vai Quindi ro Ti faccio libero Ti faccio libero Non mi guardo No Vai scusa Fai la fantasy No Il videogioco inizia con H Con H Con H Si Scusa Halo È l'Alo No Ok Si è Halo È la dem Di Halo È nuova Questo è nuovo Il gioco che debba essere nel 2010 Credo Non verrà a caso Skyrim Brava Ah cazzo C'ha ragione Ho sentito a 5 cazzo Skyrim Tu hai giocato il gioco Skyrim E' una Madonna Quindi avete giocato 8 e 4 9 e 9 ore 18 Non ho giocato non che male Right per Claudio Che cazzo Mario Sì Carcaverso Questi tutti Anzano Radio Fino a fantasy No Quindi è Wrong Reset Poi sono rispondi Non so La fungabilità Chris Bandicoat Le truffe Le truffe Poi ce l'avevo riconosciuto C'è no Mo Stava entrando nel bello Final fantasy No Wrong Vabbè Meta via Sì Io non mi ricordo Cioè io non mi ricordo niente E da chi c'hai giocato? Sì Madonna Non mi ricordo Non mi dicono niente proprio Hanno rivoluzionato il mondo del pc Oddio Dandomi prenoto E dando di prenoti Cazzo io questo mi so c'è giocato Mia moglie c'ha giocato allo sfinimento penso No vabbè faccio Dico siberia No Reset Vai Provo Surrite No Reset Unlock Un diavolo No Però ci stai vicino Dai Uno due tre Questa canzone ci stava su tutti e tre Sparo ma non mi sembra Vai A me sembra Le suoni di Zelda Non è Eh il problema è che su Zelda mi dividi uguale Perché Allo Battle of the Wild Che cari muo Perché mi sembra Mi sembravo super Però ho detto Può essere Questa Ok Allora Quindi Writer Termini Adagi Aperta Ok vai Non si ferma Mi sembra Mi sembra perché Me lo ricordo Della sua fase Sì Non mi ricordo C'era quello Quattro note Cioè Cioè Ma che stiamo giocando Mi sono trocato di quel gioco Quindi c'ho proprio delle vini Right Santi vai a giocare con Cloud Zerda Il primissimo Zelda Cioè Ciao Scusa Non arriva a Pulio Penso però Sì Sì ragazzi Ti dè Poi sta Pulio non ci ha giocato La riconosco Mortal Kombat Ma che faccia Poi Mi sono andata Capito Gianluca Gianluca Tu non hai giocato Vai a Mortal Kombat Sì Ma chi cazzo Se mi ricorda Le cazzoni Io ho giocato All'uno All'2 No all'uno All'2 Questo mi sa che era Il quattro E anche l'ultimo Ma chi se lo ricorda È una saga Molto lunga È un Che cazzo vi dico È È della Nintendo Mi sembra è nato Per la Nintendo O per Sega È nato sto gioco So poco anch'io Ti dovi dire So che tu ci hai giocato E tu ci hai giocato E non sto nando Sì Capcom Capcom Nononon Questo Me lo consigliava Come una delle più famose Sembra Le canzoni dei sacrali Potrebbe essere Resident Evil? Quale? Perché si può... Tipo è sbagliata due Eh, infatti è quel il problema che non so Può essere quattro? Sbagliato Quindi wrong, unlock Resident Evil 3 Sbagliato Wrong, unlock L'uno Wrong, unlock Il set Wrong, unlock Due Due Volevo di due va Ehi, fermati Perché se non indovino questa veramente Vieni giù il mondo Se non indovino questa Mamma mia, di cui il gruppo musicale Ma il gruppo è frega un cazzo Questa è quella che hanno fatto il video promozionale con League of Legends Quindi alla canzone di League of Legends No Scusa un attimo Prego che l'ho indovinata per te quella di prego Eh, fino a quando si è una battaglia Le battaglie quando compare la battaglia Sono uguali per tutti Scusa che cambia soltanto la tonalità Non lo dimenticate così a priori Maledissimo Sì, sì Questo ho preso quella del 9 che era quella che si sentiva un po' meglio Ciao Luca, un attimo Un attimo che penso Eh, ciao Luca Quella la sa? 3 2 Vabbè, sparo un po' di monomanone Non è foggiumon Quindi unlock, vai No E' un pacman No, attenzione No, come no? Wrong unlock Attenzione Non ci credo che la stava vedendo l'altra Dovrebbero essere tipo 6-7 giochi Ci hanno fatto il film Vi do un suggerimento forte? E' un'applicazione E' un gioco per applicazioni Per tutto il cellulare È nato Tetris No Aspetta, aspetta Wrong unlock Vai Snake No Wrong unlock Celulare Eh, te ci vuoi Ci sono 5 personaggi Uno rosso, uno giallo Uno blu Power Ranger Wrong unlock Su film The Davison Wrong unlock Sul film Il giallo è gay Il rosso si arrabbia sempre Quello che... Travi a te lo zodiaco No No, Busta va a dire altre cose Vai Ma come hai detto Sarà vedendo l'inside out Però non è Pixar game Comunque l'inside out Invece si è andato vicino Il film che mi spiazza E' quello Samuane l'ha visto lo sfinimento Finta canzone I PJ Masks Vado io o lo volete sentire? No, rimettila, rimettila Videogioco per cellulare Applicazione Unclimer Bravo 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 L'avete giocato tu Sianet il personale Basta Non mi ricordo la canzone però Right Basta Il film 1, il giallo game Senti Just Dance, mi sono confusa con Parkwell C'è una canzone? Kingdom Hearts Cula Claudio Io stai ricardando Right Quindi mi sono ammazzato più di me Questa è una canzone di tu perchè Kingdom Hearts è abbastanza rosa Ci volevo arrivare Stavo imbroccando la via Credo che l'avete giocato tutti Non so Claudio Mi raccontava che l'avete giocato Mi confondano Non è Però meritava quella Max Payne meritava No Il gioco Aveva un grosso concorrente Ha fatto bene un sacco di incassi al concorrente Il gioco in questione è horror Comunque se parliamo di un concorrente Silent Hill Quale però? Non lo so Perché cambia purtroppo Due Sì Sì Street Fighter No Sbagliato Wrong No No Mi faccio ridere A me mi sa di Topolino della Casa dell'Orore Io su uno Io su una persona su uno C'ho giocato No Che titolo è? Dovrebbe toccare al quarto capitolo E' uscito un famosissimo Un 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 di questi capitoli E' uscito per la Switch E' riuscito Sonic No Ha una traccia E' una traccia veloce Non hai capito E' uno sparadutto Un sparadutto Un sparadutto Doom Bravo Cazzo No Ma non può essere Doom Questa è L'hanno di messo Doom Questa No Ma non sarà Doom Right Tre secondi hai dominato Eh Presa L'ho presa L'hai presa Vabbè Tetris Sì Il male di Tiflochi Il male di Tiflochi Doom Eccolo Pacman Ma sei velocissimo Eh ma allora quando si fa i giochi di velocità si gioca Ok Non mi dite le canzoni però Critica Cazzo mettimene prima che ci mi calvanizzavo di più no Finito Quindi il vincitore di questo sarà Banda Nerd è Claudio Attenzione Con i suoi otto punti Sante sei Gianluca quattro che doveva andare malissimo E lo sbagliato Dai Lo sbagliato sui grandi classici Mi scusi mi scusi Non abbiamo quattro schiaffi ora? No Non abbiamo quattro schiaffi Calma perché quelle Quelle le indomina pure chi non ha mai giocato ai videogames Quindi Non c'è da niente Però io non vorrei Però Che mi dovete citare a menare? Detto questo Il risultato è stato falsato Perché avrei dovuto vincere io si era detto Però hanno fatto di tutto per non farmi vincere Cioè facciamo comunque complimenti al vincitore E a tutti e tre i partecipanti che ci hanno provato E chi più chi meno Però io sto contento Un po' meno che più Ci vediamo alle prossime estati Per altri episodi di Sarabanda Un saluto a tutti E ricordatevi Ricordatevi E ricordiamoci di metterci i mi piace Mi piace Anche non mi piace Di commentare Di dire come cazzo è fatta a non sapere quella che era facilissima Cioè questo lo potete dire E poi condividete il video E iscrivetevi al canale se non lo avete ancora fatto Nei commenti vi chiedo io personalmente Di scegliere il prossimo Sarabanda Se lo volete Su Nuovamente Le serie tv e Gli anime Vai Giochi da tavolo O giochi da tavolo C'abbiamo una mezza idea di Con vari pezzi Esatto O nuovamente sui videogiochi Come ha proposto già Luca Con le Come si possono chiamare quelli Gli allen Lumori di sottofondo Esatto Lumori classi È come se io ti faccio Tutututututututututututututututututu Guarda di vedere come hapockele Esatto Va bene o questo Scegliete quali dei tre ti mi piace di più E ve lo porteremo sul canale Grazie Ciao Chi 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 a little bit high a little bit high